Il primo patinatore che vedremo sul ghiaccio è Nansong, l'atleta cinese che si è messo in mostra davvero quest'anno perché ha ottenuto un terzo posto veramente importantissimo per lui nella Cup of China e poi addirittura dopo aver conquistato questa medaglia che già era storica nel Grand Prix ha ottenuto anche l'argento, importantissimo davvero per Nansong che poi si è presentato ai Four Continents dove ha ottenuto l'undicesima posizione e qui possiamo dire che senza alcun problema è andato a vincere la Preliminary Penso che questa fosse alla sua portata completamente 130 e 75 il punteggio di questo atleta cinese di 21 anni Break it for a Dream è la musica scelta per il suo fourth program Quadruplotolup, triplotolup, gigantesco Quadruplotolup alto quanto la Balaustra Triplo Axel che fatica ma recupera l'arrivo Eh no, cadono il Triplo Lux, che peccato Grazie a tutti. 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 Questo Lutz carica, va su, è dentro, è troppo sbilanciato sulla parte destra del corpo. Quando ha spinto, probabilmente ha spinto troppo presto la parte destra del corpo dentro. E' un'altra conclusiva. Peccato perché costa caro per ambire ai posti alti della classifica. Chiaramente poi è un'atleta potente sui salti, però la tensione si sente. 69 e 58 il suo putteggio che lo porta in questo momento dunque in terza posizione perché il miglior short di sua finora è quello di Dennis Ten seguito da Kevin Reynolds e ora appunto si va ad inserire proprio Nang Song. che rimane ancora un po' all'invito a guardare il suo punteggio. Grazie a tutti.